L'intelligenza artificiale a misura di impresa. E' questo il titolo della 19esima edizione della Scuola per imprenditori di Confartigianato in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e la Camera di Commercio. Un'opportunità che durerà sei appuntamenti dall'8 aprile al 17 giugno e che permetterà di affrontare e conoscere il tema dell'intelligenza artificiale ma anche di fare rete tra imprenditori. La novità di quest'anno è che oltre alla sede di Ancona dove sarà possibile seguire i corsi ci sarà anche quella di Pesaro. Da 19 anni organizziamo questa Scuola per imprenditori. Il tema degli ultimi anni della Scuola per imprenditori è sempre stato il digitale. L'intelligenza artificiale è un po' l'ultima frontiera se vogliamo, l'ultima evoluzione che c'è stata per quanto riguarda il mondo del digitale. Per noi a maggior ragione il piccolo imprenditore deve conoscere queste possibilità che ci sono perché l'intelligenza artificiale sia un mezzo comunque per poter competere ulteriormente. Dopo aver affrontato il tema dell'etica dell'intelligenza artificiale e di come l'imprenditore può gestirla e dominarla, ora affronteremo il tema del percorso della conoscenza per cui l'imprenditore avrà sei appuntamenti per conoscere l'evoluzione e la declinazione dei vari strumenti per poi arrivare a un check finale e comprendere quanto l'intelligenza artificiale potrà cambiare la propria attività. E quindi ci sarà anche un focus dedicato all'intelligenza artificiale declinata per ogni singolo operatore e per la sua categoria. L'intelligenza artificiale potrebbe sembrare che fa tutto da sola, in realtà non è così, va in qualche maniera gestita. Va gestita nel momento in cui dobbiamo interagire con i vari algoritmi e nel momento in cui dobbiamo valutare e validare le risposte. Questo richiede quindi competenze e l'obiettivo di questa scuola che ha raggiunto ormai il diciannovesimo anno, quindi è una scuola consolidata e che è rivolta soprattutto al sistema delle piccole e micro imprese, è proprio quello, di far comprendere operativamente come l'intelligenza artificiale può essere utilizzata nella gestione. Si tratta di un percorso composto da sei seminari, ogni seminario durerà due ore, dalle 18.30 alle 20.30. Si inizia l'8 aprile per concludersi poi con il 17 giugno. Saranno due appuntamenti mensili, saremo in presenza qui a Ancona nel centro direzionale di Via Fioretti 2A. Quest'anno sarà possibile per gli imprenditori seguire le lezioni anche dalla nostra sede di Pesaro in Via Bedosti 21. In quel caso il professore sarà in collegamento ma gli imprenditori presenti potranno interagire facendo domande, facendo quesiti, insomma chiedendo tutto quello che avranno la curiosità di sapere riguardo alle lezioni. Possono partecipare tutte le imprese interessate, basta andare sul nostro sito www.confartigianatoimprese.net C'è una pagina interamente dedicata alla scuola per imprenditori, basta cliccare lì e appunto iscriversi.